E questa è una punizione da vedere perché sempre sono da seguire le punizioni del piede magico di Roberto Carlos. Addirittura ci prova da tre quarti di cane. Vediamo quello che succede. Il tiro. Splendido! Splendido gol! Fantastico gol di Roberto Carlos. E' rimasto veramente di sale Barthes. Immobile su questa punizione con un taglio esterno o sinistro. Balla nel sacco tra l'incredibilità di Barthes e di lei di tutto lo stadio. Un numero veramente eccezionale. Lo rivediamo. Guardate che razza di giro. Ha il pallone. Incredibile. Palo interno e gol. E' un tiro perfetto. Devo dire che raramente ho visto un taglio del genere. Cioè si può dare effetto al pallone in tutti i modi con una cosa del genere. La palla separa a uscire di più di un metro e poi è rientrata. Parte interna del palo è il rete. La palla è il rete.